Ciao ragazzi, oggi voglio farvi una brevissima e un'antreprima recensione di questa azienda Gamax. Non voglio passare subito a mostrarvi i prodotti, ma volevo soffermarmi con voi sull'impacchettamento. Ci tengo tanto a questo momento perché per me qui scatta la valutazione della serietà e della fiducia sull'azienda. Ecco qui, partiamo da questo bellissimo imballaggio perché è bellissimo, perché qui magari non lo notate bene, ma è molto, è proprio grande, non è piccolino questo imballaggio ad aria. Poi abbiamo questa bellissima ed elegantissima scatola su cui all'interno appunto ci sono i prodotti, molto elegante. E sotto ancora un altro strato di imballaggio, come potete vedere con le palline a palline insomma ad aria. Adesso passiamo alla presentazione di questa bellissima scatola. È molto bella ed elegante, resistente soprattutto, quindi può sempre tenervi utile per tenere all'interno i vostri prodotti in maniera totalmente ordinata. Ecco qui, all'interno, ancora altro imballaggio. Ecco qui, all'interno, ancora altro imballaggio. Quindi la mia ultima valutazione su questa azienda, mia ultima e prima ovviamente valutazione, è super positiva perché come vi ho detto all'inizio del video, io valuto molto un'azienda inizialmente, soprattutto dall'imballaggio. Quindi vi lascio con la mia super soddisfazione e ci vediamo al prossimo video per testare e farvi vedere questi prodotti. Grazie. 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 Grazie.